Il piacere e l'onore di essere nati in una città meravigliosa come Napoli, che è uno spettacolo all'aperto. Noi quest'anno, oltre alla musica napoletana, abbiamo aggiunto altre due parole, arte e cultura, perché sono proprio le parole che identificano bene la nostra città. Quindi la crociera della musica, arte e cultura napoletana, che cos'è? Vuole essere un po' un esempio per tutti gli imprenditori di prendere questa artisticità, questo grande contenuto che offre da sempre la nostra città, è di cercare di esportarla in tutto il mondo, per far capire alle persone che Napoli non è quella che esce sui media, sempre distrattata, ma Napoli è tanto, tanto di più. Pertanto il nostro lavoro consiste proprio in questo, nel portare artisti, musicisti, pittori, scultori in giro per il Mediterraneo per spiegare e per dire a tutti quanti che Napoli è una grande capitale.